Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della rubrica di presentazione e conoscenza di prodotti venduti da Fifty Shades. Oggi parleremo di un'altra linea Cruze, la linea delle cere per la cura dell'uomo, ma che vengono molto venduti anche per la donna che porta capelli corti. Ci sono tre tipologie di cere in vendita da noi, la Clay Matte, la texturizzante, che è la Pink Pomade. La Pink Pomade è una cera dall'effetto estremamente lucido e da un'estrema tenuta. La Clay Pomade è una cera opaca dalla tenuta estrema, in seguito c'è la texturizzante, ha una tenuta molto bassa ma ha una forte opacità. Ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono in vendita con consegna a domicilio scrivendomi sulle pagine Facebook, Instagram e su WhatsApp. Troverete il contatto WhatsApp su tutte le pagine e su Google. Ci vediamo nel prossimo video.